Anche per non sembrare un deficiente che parla da so E' Marcello Come muo? Non lo so Non lo so Io devo trovare, devo trovare il nostro amico Ecco, che si è scaricato anche lui Twitch, non me lo ti metto in follow È un follow factory Ma Stefano non mi scelta che stai trasmettendo forza Ma non mi scelta che stai trasmettendo forza Non ho capito Stai cercando forza Che stai trasmettendo forza Eh, io ci sto trasmettendo No, non sto trasmettendo Non c'è trasmettendo forza Mamma mia non è capace neanche di essere un programma integratore Sì, sì, sì Dai, non sto chiedendo il pronto Ma che cazzo fate? Invita, invita non vedi com'è balla nando Stefano non ti trovo non ti trovo eh sto trasmittendo vediamo se ti trovo Stef 4 arc 3 follow segui vediamo l'immagine che hai messo nel profilo è la Giulietta la di la Gatamari che sfiacola è bella Giulietta che faccio? lascio vado sono due ore sono 250 grammi lascio che brutta persona ma sei un finocco no è male l'hanno detto quando mai l'hanno detto mi hai detto tu vai appazzaniamo e ripartiamo adesso ci sarà qualcuno che avrà problemi perché non hai il tasto abbandonato il volante quindi questo non avverrà la serata se ve lo dico eh Stefano mi auguro che l'hai inserito c'è un po' già inserito sicuramente che devo controllare se nella tua si fa tutti e due giri includi il mio audio perfetto così io sono pure nel tuo ma incluso il mio haul salvo devi abbandonare salvo io avevo un asset diverso da quello bisognava usare io non credendo quale? è un altro con quattro marce GS glory ma questo è un ecce guarda Stefano che sta facendo chi sta cambiando sta cambiando l'assetto per la ripartenza sta caricando il lancio controllo è chiaro che ricarica per chi lo ha più che ne sai possiamo sempre perdere adesso deve ritornare fare i box per fare il riforme hai mettete il gioco contro ah attenta che cambia macchina poi che si chiama il gioco al campurano beh, vedo che ho detto tozzandone fa 7 euro il GPL dai però ok ok ci siamo via 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 vai Stella vai Ivan Capelli se ci vuoi scopere se ci vuoi dare indicazioni segreti del circuito gentilmente e se ci vuoi dare indicazioni non ho messo che roba sempre se mi ricordiamo adesso va bene va bene va bene va bene va bene e sei incerto che ne ha aperto Ah, mannaggia, mannaggia Oi, 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 oi Oh, caccia, guarda, caccia, guarda Oh, basta, caccia, guarda, caccia, guarda Oh, caccia, guarda Poi, asco, guarda, caccia, guarda Grazie. 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 Ho capito. Ho capito. Perché c'è mai scelta? No, e mi ha scelta la credenza. Ah, e niente, Stefano è spunto. È rientrino. È crashato. È crashato. È lost. si crascia chi crascia non può non può rientrare ma la qualifica l'ho finito c'è una regola scritta nel regolamento ah ma quei due proprio hanno rinunciato ma come? serio? eh beh eh beh hanno visto che non è nella loro capacità eh che frega vedi se sono crasciati il rendito di Zoffy ma davvero un po' di coglione sospeso ma io non ho già notato non hanno proprio finito la qualifica la Risenmax ho crasciato non c'è più esplosa la console gli è esploso in modem e anche... beh in LFMG non c'è FMG da chi si è entrato comunque... beh quando ho entrato a FMG World in derlo in giro di Giotto e l'ho sentito dire beh ma questa non è FMG è riuscito no ma che fiume secondo me in realtà stanno cercando qualcosa di un po' più ma è una cosa difficile neanche io starò in pista no questo è difficile sì ma puoi fare il tempo subito qua in qualifica è il caso possibile troppo veloce quanti giri erano 24 sì 24 sono 30 minuti quindi 30 e 20 sono 30 minuti quindi 2 e 20 minuti 20 e 19 comunque siamo alla nonna edizione giusto? alla nonna edizione la nonna non nonna ebbè 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 voi la si attimo annuale sì sì la classifica punti dove sono con il mio altro zagatto però tanto se va bene per favore 5 minuti 5 minuti bastano voi ma voi la classifica prima prima stefan se va in modifica io lo so ma io lo faccio una volta solo ma la fai una volta solo ma se lo fai da lì voi non c'è bisogno che lo rifai tu ho capito ho capito che non imparerai mai stefano christian io marcello è giusto oh no no salvo prima di armi salvo l'hai fatto pulito no neanche uno no aspetta questo il due gli ha sporca grazie ci salvo dietro adesso mi fa avviare non c'è molto posso avviare adesso non c'è molto ok perché non vedo eh oh ok salvo dietro vai ok non ne fa da sosta no no si uno ogni due giri bene uno e i consumi li avete compro i due no arriva al 60% no anzi 55 questo giri dico vai dai venga cura qua 50% vabbè la gomma è relativa in base allo stile di guida di un nuovo perché siamo fantasmi? no c'è fantasmi io stiamo fantasmi sono fantasmi? no no io stavo la giunta non c'è tanto non c'è ma questo è soltanto per la partenza un problema di connessione non c'è che farai ancora? non c'è no che farai ancora? che farai ancora? Mi approfitta Nannini e finisci su lei! Nannini e finisci su lei! Nannini e finisci su lei! Il problema è scendere sotto il giro io sento! Eh, ma io vado su un giro! E' contro la scatura! Ma guarda che già glielo sto facendo il staff! E' contro la scatura! Eh, che posso fermare! Eeeh! Ci aspettiamo le arrivi di Stefano! Non è fire! Dove è andato? Questa la vince in carrozzino! In carrozzino! Ma che spara qui! Ma vedete che spara in fila! E' sparare a disposizione del soli? Si! Oh, capito! Eeeh! Eeeh! Noi abbiamo discapato il soli! Mi sento una merda a fare la tappa ad Iron! No, ma gliela voglio dare! Non sono così! Non, non! Non è bene! Non ci sono! Non ci sono alcuni maggiore! Non ci sono calci! Non ci sono alcuni di tutti! E' perciò! E' perciò che si tratta il giro! E' maggiore! E' solo sole che sta incontro! E' solo che si tratta! E' solo che si tratta! E' lo viaggio! E' solo che si tratta... E' solo che si tratta! Sì andresa in caro colpso la pò Pagno, resta in caro colpso la pò Pagno, resta in caro capire il livello, resta in caro Ehm, sì, vai in un'unità Vai in un'unità Sì, 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 sì. che succesa ora? che succesa ora? che succesa ora? che succesa ora? che mi ha appena sfondato si va in caverna ma si lo distrae ragazzo passate tu passate tutti ora posso correre pure grazie passate tu ma che problema con la connessione ma che problema con la connessione no 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 quando sei andati staccata mi hai proprio preso il postiglione e sono finito fuori no ma tranquillo solo che non capivo perché continuavi a spingermi comunque salvo la pista è fra le strisce non è che quando sei salvo non lo farei io farei io ma che farei tutti fiali ma che farei tutti fiali non 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 Esce tutti. Non so perché volevo entrare in zona mia, però non è il caso, non sei fatto. Prima riusciamo un paio di serie a scena suori insieme. Tre paio. Quelle sono cose mie, Giusto, non ho capito. Già lui sa di invitarmi fuori, voleva entrare. E' una fase tre volte. E' un paio di pochi. Hai visto come hai visto? Ragazzi, vi dico una cosa. Ho fatto un tempo che è un video che mi sembra più lento del tempo di romanzo. Ma io non posso l'estimilare. Però cosa devo fare? Lo tolgo. Lo tolgo. C'è anche un po' di fronte. Eccestivamente! E' un pochetto di tanta Cosa hai fatto quello? Come? L'hai fatto? Sto rendendo bene Sì Hai messo la quinta? No, non lo so, mi sospende Perché? Hai frenato troppo, velloffetto le gomme e ti sospenta la massa Sì 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 Ma comunque io ti do su 19 quindi Ma io sono lì, lì 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 Dai dai... fai un po' questo dobbiamo più Nooo mi piace Sì 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 Questa va, guarda Ma chi zappo? Sì Sì Oh, dai Sì 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 Yuh unprecedented Molto Yuh Ehh Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. No. 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 Mi ne aveva cazzole Io frenando poi ripassare E volevo andare al canne Mi sentavo che non ero così il caldo Quanto avremmo fessi da stare a digger? Si è uscito questa roba No Non è uscito la scena Ma non è uscito la scena Ma non è uscito la scena Ma non è uscito il campionato Però peccato Potrebbe essere una bella battaglia Ma se mi hai già sottato Non è uscito la scena Non si può battagliare Ma la battaglia Si è uscito il tempo Proponiamo che Questa volta che avvicina Marcello Non può scegliere Non può scegliere basta Può scegliere anche In un'altra quarantina Marcello Stiamo scazzando Mamma mia Mi fa venire l'ansia per ogni cosa Ci stiamo divertendo Vado come vado È sempre comunque pratica Ma non è braga Questa Scegliere tanto Vai salvo, sei butterflies Stiamo recuperando Magliate di conseguenze Hai seguito Miliewuly C'è il rischio C'è il rischio Che i migliori Di quando ho são nước Secondo Stiamiamo In due Ho filmmaker Andacie H biography Son with children Vadoosion Sì! Ma non è qui un tavolo? Sì, non è qui un tavolo. E allora niente, non puoi liberare. Te l'ho detto io, fai fare l'oltre. Ma se no, non fai fare l'oltre. E non se la cambia, perchè è la scusa per morire se batte. Che può dire che è la colpa delle laggate. Sì! Mi ha spostato il giro davanti. E va te tutti io, col fatto che abbiamo fatto il cambio di account con Stefano. Ma non ce l'ho più. Sì, in cinque. E quando lo metteranno nel pass? Ma sento te viene ancora l'altro. Il rave è la scusa. Ma dove è uscito? Ma è già uscito il cinque? Sì, niente. Ah, è uscito nel senso il rave nel pass. No, il 10. Dovrebbero metterlo. Nooo. Mi sono sentato. Buon. Nooo. Nooo. E' used i tempi. No 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 La pista alla strada La pista alla strada Non vuoi scadire in terra Se c'è il culo di non fare un giro pulito Lo vado a fare Per il mio assetto Almeno così Non lo faccio parlare Grazie No 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 Grazie a tutti. 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 Rambo fa solo il primo attasso. Non fa neanche più i campionati. Sei a un millesimo da lui. Eh lo sto. Ma potevo scendere cazzo. E' solo che non sono riuscito a fare il giro... Questo perché stasera Stefano non avevo voluto usare il fan. No, è buono è buono. No, ma non è buono. No, ma tranquillo, è buono. No, ma tranquillo Marcello è soltanto che non mi spiegavo perché. Vabbè, è buono. Vabbè, è ovvio che adesso lo buttiamo fuori dai pit direttamente. Ma tu tranquillo, dai. Ma tu tranquillo, tu tranquillo Marcello, nessuno ti dice niente, può capitare. Domani si trova la macchina incendiata. Comunque siamo partiti in otto e siamo tornati in cinque. Fantastici. Eh beh, eh beh, incidenti. Devo mandarla un po' con le foglie. Fai... Caricala su. Basta la carichi su... sull'aerla. Ok, l'ho già... condivisa. E' la seconda? Giusto. 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 Vincere più... Quello che ha fatto il miglior giro. Ti ha fatto il miglior giro. Così quasi... Mi lascio presto con il tempo e tanto piacere. Sono due italiani. Uno si chiama Borgognomo. E uno si chiama... Vinicerno. Fantastico. Buonanotte a tutti. A stacco. Ciao. Ciao. Buonanotte. Salva il replay. No, no, salva il replay e dimmi che non ti sei potato. Ok. Stacco la live. Ciao. C'è un utente in osservazione. Ti saluto. Ciao, ciao. 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 Ciao.